Mi scusi signore, stiamo cercando un bambino indemoniato. Lo riconosce in questa foto? E certo, è mio figlio. Ora è dentro il negozio, ma uscirà tra un secondo. Ehm, no, cioè, no, no, mai visto in vita mia. Hmm, che ha detto poco fa? Oh, e dicevo che il bambino della foto è mio figlio. Viaggia con noi, fa parte della nostra famiglia. Stiamo fuggendo dai poliziotti come lei. Ehm, no, cioè, stavo solo notando, ma tu guarda quanto è bella la sua cravatta. Grazie, adoro questa cravatta. Va bene, guidate con prudenza.